Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, bentrovati ancora insieme e ancora ad aprire questa nostra edizione del giornale, la questione della cosiddetta autonomia differenziata, che sta diventando un po' uno spauracchio da un certo punto di vista, ma insomma bisognerebbe chiaramente approfondire la questione, c'è tutto il tempo da questo punto di vista perché chiaramente il governo Meloni in questo momento sta di fatto riproponendo una proposta di legge della Lega intorno alla quale ci sono un po' di discussioni, ma anche di criticità anche all'interno dello stesso governo di centrodestra. Noi ne abbiamo discusso, più che discusso, abbiamo raccontato quello che è successo durante questo incontro che c'è stato in Cittadella con il Ministro delle Autonomie, il Presidente della Regione, un pezzo delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori. Però per fare il punto ci piaceva molto sentire anche un altro pezzo di questa riflessione, di questa discussione e così abbiamo invitato, lo ringraziamo molto per la sua consueta, devo dire, disponibilità, al segretario generale della CGL Calabria, Angelo Sposato, bentornato su Esperia e intanto anche buon 2023, segretario. Grazie, buon anno anche a voi, grazie a tutti. Allora, le faccio sentire intanto che cos'è questa autonomia differenziata per il Ministro delle Autonomie, Roberto Calderoli, giusto 50 secondi. Chi non dovesse richiedere l'autonomia differenziata avrà la garanzia di avere le medesime risorse e un meccanismo perequativo che è in grado di superare le sperequazioni esistenti precedentemente, quindi nessuna paura sotto quell'aspetto. Io vedo delle grosse potenzialità proprio per le caratteristiche che l'Italia ha di diversità e quindi delle potenzialità che a livello di ciascuna regione può determinare un incremento del PIL, dell'occupazione e del benessere economico dei cittadini. Io ho previsto che debbano essere definiti i LEP, quindi i livelli essenziali di prestazione, i costi e fabbisogni standard. La spesa storica sarà un'operazione trasparenza per verificare come i soldi siano stati spesi in passato, se bene o se male e che fine abbiano fatto. Insomma, segretario sposato, per dirla con Calderoli, se non la vogliamo non ce la prendiamo, tanto poi ci danno i livelli, la perequazione, i fabbisogni. Perché lei invece si fida poco di questa impostazione? Basta sentire la cosa che ha detto Calderoli. Già partendo dicendo che chi non è in grado di poter in qualche modo sostenere questa riforma, si vedrà riconosciuti i principi solidaristici. Quindi parte da un presupposto, da un assunto, che il Sud è indietro, il Mezzogiorno è indietro, ed oggi non è nelle condizioni di poter competere con sistemi diversi. Noi abbiamo detto che il tema dell'autonomia differenziata lo si può porre quando i parametri di spesa storici vengono in qualche modo aggiornati rispetto a quella che è la spesa. Cioè nel Sud, negli anni passati, negli ultimi 20-30 anni, non si è fatta spesa, perché a noi hanno lasciato sempre i cosiddetti fondi europei. Si sono bloccati i trasferimenti, non si è fatta spesa rispetto alle infrastrutture, non si è fatta spesa sulle politiche industriali, perché il Sud è rimasto indietro, ed oggi noi scontiamo dei ritardi che ha creato già diversi divari nel Paese, che vengono acutizzati con l'introduzione di queste norme. Noi abbiamo detto che in un territorio come quello del Sud, che ormai è molto svantaggiato da un punto di vista anche infrastrutturale, sociale, occupazionale, procedere a colpi di maggioranza su questi temi che sono fondamentali, come l'istruzione, il lavoro, la sanità, rischia ulteriormente di dividere il Paese. E quindi contrastiamo questo modo di fare, tra l'altro viene estratto dal dibattito parlamentare, si fa riferimento per le regioni che non saranno, che lui dice, non sono in grado di poter competere, di avere questa ripartizione sulla spesa storica, quindi danneggerebbe ulteriormente il Sud, e non si parla di quello che è il fondo per equativo. Quindi da questo punto di vista ha avvocato a sé tutto un dibattito che doveva essere fatto con le parti sociali e con il sindacato, ma non facendo il tour elettorale come sta facendo, si apre un tavolo nazionale rispetto a questa questione e si discuta con le parti sociali e in un dibattito parlamentare quello che può essere un tema così importante per il Paese. Torneremo, fra l'altro, su questo tour elettorale di cui parla lei, perché c'è anche una nota del PD, ma di questo parlerò dopo. Vorrei farle sentire una considerazione che fa, proprio nel corso di questo briefing in Cittadella, lo stesso Roberto Chiuto. In passato chi ha governato le regioni del Sud ha scelto un approccio meramente rivendicativo, difensivo, e questo che ha prodotto, spera equazione, non ha prodotto alcun beneficio per le regioni del Sud. Io vorrei essere un presidente che governa una regione del Sud, ma che non sfugge il confronto con le regioni del Nord, e cerca di sfidarle sul piano delle opportunità che l'attuazione della Costituzione può riservare anche al mezzogiorno. Ecco, sposato, Occhiuto dice, io vado a vedere le carte, no? Non mi va di giocare sempre in retroguardia. Poi aggiungo, c'è un'altra considerazione dello stesso Calderolli che dice, beh, insomma, però per 75 anni ci siamo tenuti in questo Stato e questo Stato ha prodotto questa sorta di spereguazione. Insomma, è come se la colpa fosse sempre nostra, no? Ma io rispetto ovviamente alle scelte che sono state fatte, diciamo, dal presidente della Giunta, io ritengo sia stato un errore politico aver iniziato l'anno con questo tema, anche perché noi siamo assieme anche alla Will su questa questione, diciamo, coesi nella anche visione. Noi abbiamo mostrato grande responsabilità come sindacato unitario in questo anno, accompagnando una serie di riforme che noi abbiamo voluto, così come abbiamo fatto per l'acqua, così come abbiamo fatto per la logistica, i trasporti, l'aeroporto, così come abbiamo chiesto di fare anche una riforma istituzionale al presidente Occhiuto, nello stesso modo diciamo che purtroppo la Calabria oggi non è in una condizione di reciprocità per discutere con il governo e con le altre regioni. Io credo che ci voglia anche un po' di umiltà nelle cose. Noi ancora dobbiamo completare di fare i compiti a casa, non dobbiamo andare col cappello in mano da nessuno, ma ancora ci manca molta strada da fare. Noi abbiamo dei ritardi da recuperare sotto il profilo della salute e della sanità, piuttosto il governo ci dica se ci vuole aiutare a sbloccare le assunzioni, perché questa mattina in un noto programma televisivo la Lega ha attaccato la giunta regionale sulla questione dei medici cubani, quindi delle due l'una. O Calderoli è d'accordo con il presidente della giunta regionale, però se no stamattina D'Agora, uno dei suoi, ha attaccato astramente la giunta regionale calabrese sui medici cubani, quindi evidentemente si devono raccordare anche tra di loro. Quando parlo di compiti a casa è che noi ancora i compiti non li abbiamo fatti. E quindi perché abbiamo aperto la vertenza Calabria con un grande senso di responsabilità? Perché abbiamo detto che su lavoro, salute, infrastrutture, zone economiche speciali e ambiente noi abbiamo la necessità di avere anche dal governo delle risposte. Calderoli ieri non ha detto nulla sulle zone economiche speciali, non ha detto nulla su Porto di Gioia Tauro, non ha detto nulla sulle infrastrutture, non ha detto nulla sulla sanità, è venuto solo a parlarci della secessione dolce che loro hanno sempre teorizzato come Lega e che stanno praticando con la benevolenza e la consapevolezza e la benevolenza anche della giunta regionale. Fermo restando, ognuno fa le sue scelte, ma io non posso dimenticare il giudizio che ha avuto Calderoli nei confronti del Sud e del Meridione. Poi io non la voglio buttare in politica come ha fatto lui, perché ha fatto anche una politica speciosa sull'autonomia del sindacato, è lui che fa politica. Noi non facciamo campagna elettorale perché sei anni fa siamo venuti sotto la cittadella regionale con un'altra giunta di un altro colorio politico a dire che la Calabria dovrebbe cambiare passo. Quindi lezioni di autonomia da parte di Calderoli noi non ne prendiamo perché ha voluto associare il nostro rifiuto ad incontrarlo, perché è stato praticamente così, a una presa di posizione di altri partiti che a noi non interessano. Quindi da questo punto di vista rimaniamo forti e ancorati a quello che è la nostra visione e contrasteremo queste norme che dividono di più il paese perché spostano ancora di più il Sud verso Sud perché non è una scelta che unisce il paese per così come è stata posta da Calderoli il tema dell'autonomia differenziata ma aumenta i divari del paese. Questa è la vecchia idea ideologica di Miglio che sta ritornando in auge sotto altre forme e in un'altra parvenza e su questo noi combatteremo creando anche un'alleanza a livello sociale con tutte le forze che vogliono stare in campo perché questa autonomia differenziata così come viene posta dalla Lega oggi è un pericolo per il Mezzogiorno. A proposito proprio dei corpi intermedi e della necessità soprattutto che le regioni del Mezzogiorno abbiano un dialogo con i corpi sociali, vorrei farle sentire quest'ulteriore considerazione di Roberto Chiuto questa volta proprio anche su di lei. Io ho un rapporto molto positivo con tutti i sindacati, per questo avevo chiesto anche alla Will e alla CGL di essere presenti, non lo hanno fatto, io credo sarebbe stata un'unica, un'importante occasione di confronto anche di scontro, però rispetto la loro scelta per quanto mi riguarda invece il rapporto con le organizzazioni sindacali con tutte continuerà e sarà positivo come è stato in quest'anno. Dunque ci sarà naturalmente, non potrebbe essere diversamente, chi vuole governare e far politica soprattutto in una regione difficile come la nostra non può non rapportarsi con il mondo delle organizzazioni sindacali però io non posso non chiederle, ed è l'ultima domanda che le faccio, ringraziandola per la disponibilità. Il fatto che ci fosse Tonino Russo e quindi la CISL lì intorno a quel tavolo, come dire, mette ulteriore sale su questa ferita? Perché insomma poi non dimentichiamoci, poche settimane fa CGL e Will hanno proclamato uno sciopero generale, la CISL si è defilata. Sì, noi il tema dell'autonomia differenziata l'abbiamo posto come uno dei temi anche dalla piattaforma dello sciopero del 12 quindi la nostra posizione il Presidente Occhiuto la conosceva bene, anche perché abbiamo fatto uno sciopero anche su questi temi. Sulla vertenza Calabria continuiamo a ribadire che noi manteremo un lavoro che abbiamo concordato insieme, condiviso su alcuni aspetti con la Giunta regionale, nulla di personale ovviamente ci sono scelte politiche che si fanno, altre scelte di merito come abbiamo fatto noi perché non è politica che si fanno ovviamente il dialogo rispetto ai temi che riguardano la vertenza Calabria e il lavoro per quanto ci riguarda continua fermo restando le valutazioni autonome che ognuno ha rispetto a quelle che sono le visioni. Noi continueremo a fare il nostro con grande senso di responsabilità e lealtà da un punto di vista di quella che è la forma noi non faremo colpi bassi, la faremo alla luce del sole in maniera trasparente come sempre è stato fatto in questi mesi, in questi anni la scelta che ha fatto la CISL, a differenza della CISL noi non diciamo che ha fatto un errore come è stato detto a noi quando abbiamo fatto lo sciopero generale, è una scelta che quella organizzazione sindacale sta facendo con la sua consapevolezza noi ne stiamo facendo un'altra, la stiamo condividendo con la base, con le associazioni, con i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici abbiamo ritenuto assumere questa posizione per coerenza anche rispetto alle cose che abbiamo detto dopodiché per quanto ci riguarda l'interesse dei calabresi e delle calabresi per noi viene prima di tutto noi seguiremo con coerenza la strada che abbiamo tracciato nella vertenza Calabria e continueremo a farlo in tutti i luoghi anche da un punto di vista di quelle che sono le scelte che farà il governo sulla vertenza Calabria perché al momento a parte qualcosa che è stato fatto sulla 106 perché è stato dato qualcosa in maniera molto ampia per 15 anni dove i primi anni sono interventi che non bastano nemmeno per la progettazione però al momento non abbiamo avuto riscontri su politiche industriali, su altri temi che il governo a cui abbiamo chiesto sulle zone economiche speciali non c'è niente, non ci sono politiche industriali per il sud l'alta velocità si ferma in campagna, non c'è più niente per l'alta velocità in Calabria non ci sono le risorse per i lavoratori forestali che arriveranno fino a marzo e manca soprattutto una visione di sud il sud nella legge di bilancio, questo Calderoli non avrebbe dovuto dirlo non è proprio citato nella legge di bilancio e quindi io credo che nei prossimi mesi bisogna rimboccarsi le maniche perché con il governo, al di là di questa questione dell'autonomia differenziata va riaperto il fronte dell'avvertenza Calabria e devo dire, lo ribadisco anche qui ai telespettatori che il nostro segretario generale Maurizio Landini che è stato uno dei primi a credere nell'avvertenza Calabria ha già manifestato disponibilità ad un incontro specifico per tornare nuovamente a discutere dell'avvertenza Calabria la risposta migliore alla domanda che lei mi fa è proprio questa l'attenzione che c'è da parte della CGL e credo soprattutto anche della Will con il quale abbiamo questo rapporto mai consolidato di andare avanti su questa strada anche dicendo le cose che non vanno come è avvenuto ieri con molto garbo e con molta autonomia insomma avrete tanto da lavorare, noi saremo qui ovviamente ad ospitarvi e a raccontare anche le posizioni in questo caso di Angelo Sposato della CGL buon lavoro segretario e grazie come sempre per la disponibilità grazie a voi, buona giornata a presto Angelo Sposato, segretario generale della CGL restiamo per un attimo sullo stesso tema perché c'è anche una nota del Partito Democratico il ministro Calderoli viene in Calabria a fare propaganda al suo progetto di autonomia differenziata che vuole affossare il Sud imbarazzante che il Presidente Occhiuto glielo consenta offrendogli la location per lo spot e arrivando addirittura a ipotizzare potenzialità di sviluppo da un decreto che presenta profili di incostituzionalità è iniquo, ingiusto e ha già trovato la ferma opposizione delle altre regioni meridionali questo dice una nota del PD dopo la visita di Calderoli in Calabria il decreto sull'autonomia differenziata è stato già ampiamente criticato dalla conferenza Stato-Regioni e ha ricevuto una bocciatura sonora da parte dei sindacati ne poteva essere diversamente legare gli stanziamenti alle regioni al criterio della spesa storica vuol dire relegare le regioni meridionali compresa la Calabria ad una situazione cronica di sottosviluppo e fare in modo che si allarghino le differenze con le regioni più ricche del nord con il risultato di spaccare in due e in maniera definitiva il paese su un tema così nevralgico per il futuro non si può procedere a colpi di slogan né tantomeno con forzature e strappi e senza nessun tipo di concertazione staremo a vedere che succederà nelle prossime giornate intanto parliamo di aumenti perché praticamente a parte forse la bolletta elettrica aumenta tutto in questo 2023 per esempio la RC Auto quasi 14 mila gli automobilisti calabresi che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti aumenti che vanno a sommarsi a quelli di benzina e pedaggi autostradali a sostenerlo un'elaborazione sui premi assicurativi da parte dell'osservatorio di facile.it e le notizie non sono buone neanche per gli automobilisti virtuosi dal momento che nell'ultimo anno le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Calabria mediamente ci volevano 549,57 euro insomma 550 euro cioè l'11,2% in più rispetto a dicembre del 2021 quindi rispetto a un anno prima e addirittura il 20% in più rispetto alla media nazionale ma è solo una questione di RC Auto? purtroppo no guardate sarà un 2023 all'insegna dei rincari anche per il nuovo anno nonostante gli sforzi del governo si prevedono aumenti che andranno a pesare sul budget delle famiglie italiane i ritocchi in su riguardano diversi settori dalle tariffe energetiche alla benzina passando per le assicurazioni, i canoni di affitto e i prodotti alimentari nel 2023 potrebbe costare sempre di più comprare o affittare una casa la BCE nell'ultima riunione di dicembre ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base aumentano i canoni di locazione le analisi dell'ufficio studio del gruppo Tecnocasi evidenziano un rialzo del 2,1% per i monolocali del 2,4% per i bilocali nei prossimi 12 mesi proseguiranno i rincari alimentari che hanno contrassegnato in maniera negativa il 2022 un problema causato dalla crisi energetica e dalla conseguenza diretta legata alla guerra tra la Russia e l'Ucraina i prezzi dei cereali per esempio sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni del 2022 e il trend è destinato a continuare anche a inizio anno a influire in maniera negativa sui prezzi dei prodotti alimentari sono anche le condizioni climatiche l'ondata di freddo artico negli Stati Uniti d'America ha portato a temperature tali da mettere a repentaglio le coltivazioni del grano in inverno si prevedono inoltre rincari sul prezzo del petrolio dopo un 2022 molto difficile sul fronte dei carburanti la notizia dell'allentamento delle restrizioni anti-covid in Cina e il successivo divieto della Russia di esportare il greggio verso i paesi che hanno imposto il price cap sul petrolio ha portato a un aumento del prezzo le quotazioni sono già visibili alle pompe di benzina riportando ancora più in alto i prezzi dei carburanti tra i possibili aumenti in vista nel 2023 si segnalano le tariffe del RC Auto in base a quanto riferito dall'ultimo bollettino IVAS nel terzo trimestre del 2022 il prezzo medio pagato per la Polliz Auto in Italia è arrivato a quota 362 euro con un incremento del 2,5% rispetto al trimestre precedente sono stati ospitati tra Sicilia e Calabria circa 700 migranti soccorsi ieri a largo di Siracusa mentre erano stipati su un peschereccio il mezzo ieri è stato intercettato e soccorso da motovedette della Guardia Costiere della Guardia di Finanza circa 26 mili a sud-est delle coste di Siracusa trasbordati sulle unità sono stati assegnati ai porti di Siracusa Catania e Rocella Ionica circa 200 sono stati condotti a Catania sulla nave Dattilo della Guardia Costiera altri 153 a Rocella Ionica a largo della quale è stato poi operato un secondo soccorso a favore di 77 migranti i cubani non ruberanno alcun posto di lavoro ai nostri medici quando ci saranno o decideranno di partecipare ai concorsi che continuiamo a bandire saremo felici di assumerli il paradosso è questo che la sanità calabrese può assumere ma diciamo che ha difficoltà di reclutamento così Roberto Chiuto, presidente della Regione in un'intervista alla Repubblica è chiaro che questa non può essere una soluzione strutturale ma una soluzione ponte per evitare un tracollo di alcune strutture ospedaliere la sanità calabrese è stata distrutta da 12 anni di commissariamento in cui non solo non sono mai stati aumentati i livelli essenziali di assistenza ma non sono mai neanche stati fatti i conti sull'ammontare del debito noi abbiamo bisogno di 2500 medici 500 dei quali subito se non vogliamo chiudere pronto soccorso e reparti abbiamo fatto e stiamo facendo concorsi per assunzioni a tempo indeterminato ma non troviamo gli specialisti che servono evidentemente il sistema sanitario è poco attrattivo e il turnover non è stato garantito dal numero chiuso all'università in più molti medici ospedalieri si dimettono perché trovano più conveniente andare a lavorare nelle cooperative che forniscono medici a gettone qui in Calabria un medico a gettone prende 150 euro all'ora un medico dunque può arrivare a costare fino a 50.000 euro al mese e noi non ce lo possiamo permettere intanto i NAS hanno sequestrato a Reggio Calabria un immobile utilizzato abusivamente come casa di cura per disabili mentali la struttura era ospitata in un'abitazione civile priva dei requisiti tecnici ed organizzativi per l'assistenza alle cosiddette persone deboli nella struttura erano ospitate nove persone affette da gravi patologie psichiatriche e bisognevoli di continua assistenza e cure farmacologiche gli ambienti in cui si trovavano i degenti erano privi dei requisiti strutturali stabiliti dalla legge i sanitari non erano professionalmente qualificati i militari hanno poi accertato che gli alimenti custoditi nell'immobile destinati ai pazienti erano in cattivo stato di conservazione i nove degenti sono stati affidati ai loro congiunti cambiamo decisamente argomento ci occupiamo di pallone finalmente si torna anche a respirare un po' di serie A e però c'è anche il calciomercato è il Cosenza che ha dato il via agli scambi nella finestra del calciomercato invernale e non poteva essere diversamente vista la pessima classifica dei lupi relegate all'ultimo posto dopo l'ennesima sconfitta a Cagliari Viali e Gemmi hanno individuato i punti critici a cominciare dalla porta ed ecco allora che Alessandro Micai torna a giocare in Calabria dopo l'esperienza regina a difendere la porta dei Cosentini partenza per Matosevic che è vicinissimo al Vicenza mentre Vallocchi è già in direzione Reggio Emilia il Cosenza però ha la necessità di fare spazio nello spogliatoio per cui anche elementi che non hanno soddisfatto sono destinati a partire Butic è già con le valigie in mano verso la Feral Pisalò mentre in entrata continua il corteggiamento per Leonardo Capezzi al quale si aggiunge ultimamente anche un interessamento per Salvatore Molina in uscita dal Monza Regina ferma in attesa di giorni migliori per capire come mettere a segno il colpo definitivo soprattutto in attacco dove si è liberato un posto a seguito della recessione di Santander in Serie C attivo il Crotone che sta per ufficializzare le uscite di Giannotti al Monopoli Bernardotto alla Gelbison e Tuminello direzione Lecco spazi ridotti anche per Panico che ha fatto poco nel girono di andata e riflessione anche su Vitale che non ha soddisfatto le aspettative in entrata il nome forte del momento è quello di Eugenio Dursi 15 presenza al Foggi in questa stagione 10 da titolare e un solo gol all'attivo l'ex attaccante del Catanzaro di proprietà del Napoli potrebbe accasarsi a breve ma non è solo un attaccante di peso che ha bisogno il Crotone serve qualcosa anche sugli esterni bassi e in mediana si cerca qualità e quantità e adesso previsioni del tempo con Trebi Meteo Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora pressione atmosfrica relativamente alta sul Mediterraneo e su Italia la coda di una perturbazione diretta verso i Balcani lambisce il nostro paese con qualche nuvola nell'Italia centrale ma senza grandi conseguenze vediamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese come vedete un po' di nuvole passano sull'Italia centrale poi è sempre presente parecchio umidità in pianura padana dove il cielo rimarrà piuttosto grigio ma nel complesso situazione abbastanza tranquilla come precipitazioni praticamente nulla di particolare da segnalare semmai qualche gocciolina di pioggia potrà interessare le zone interne dell'Alto Tireno ma davvero fenomeni isolati quindi in definitiva ci attendo un mercoledì ancora grigio in pianura padana per la presenza di foschie localmente anche dense fino ad arrivare alle coste adriatiche un po' di nuvole nel centro Italia ma diciamo senza grandi conseguenze nel resto dei paesi non mancheranno anche delle belle schierite come temperature valori che restano sopra la norma soprattutto al centro-sud e nelle zone montuose ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo pochi secondi ancora per le 14.27 grazie per averci seguito restate sul 15 noi ci vediamo più tardi alle 5.30